Ma perché o c'era la nebbia, oppure si dovrebbero essere scongelate le cose adesso, parlando con la tizia. E in Turchi mi sa che ho ascoltato un cazzo. Esatto, come me l'altra volta. No, eh no, perché ero con voi. Esatto. Perché c'è un modo per scongelare le cose che chissà quale cazzo è, usare magari una torcia. È stata lei, con la tizia lì. Non ti è comparso anche il... I ghiacci si stanno sciogliendo, il vento si prende. Sì, ma solo quello in mezzo si è sciolto, però. Il baule è accessibile? C'è un cazzo, sì. E quindi io in sti mesi, diciamo, pensavo, o si va avanti oppure si rifà tutto il giro vedendo se tutte le parti congelate sono scongelate adesso. Magari. Bene, ragazzi. Ma è merda! È una prova a tempo. Ma facciamo così. Proviamo... Proviamo. Sì, è un casino. Proviamo una volta, poi se ci prendiamo subito il cazzo, quindi... La mia corone del sommerso. Ok. È bello. E il samurai. Ok, andiamo. Dobbiamo andare velocissimi. Cioè, velocissimi, dopo tutto sto tempo moriamo subito, vuol dire. Ah, molto probabile. Ah, già, e poi ho preso questo bastone, ma non c'è tempo per farvelo vedere, che è quello che... Quanto sto? Aspetta che mi devo mettere l'anello. Questo sì che fa andare veloce la situazione. Ok. Andiamo, 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 andiamo. Qui c'era solo il posto, non mi pare, ci può essere niente di coperto. Qui c'è la tipa che è ancora... C'è una guata, forse. C'è la tipa che è ancora... Qui c'è un tizio. Ehi. Ehi. Ehi, tipo. Ehi, tipo. Non c'era bisogno di Ricky. Ok. E' vero, è vero, non c'è tempo da perdere. Sono dei cani qui, ma chi se ne frega, vaga. Esatto. Ok, va bene, niente. Ok, via, 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 via. Fammi riprendere fiato. Qui c'era qualcosa, qui c'era qualcosa. Sì. Oh no. No, non è il momento. Ehi, questo sbatacca. Ma, non è Forlorn, Forlorn, Forlorn. Ecco, sta arrivando. Com'è che si chiama? Noi l'abbiamo sempre pronunciato sbagliato, tra l'altro. Ma quello con la faccia, merda. Forlorn. Ah, Forlorn. Eh sì, esatto. Vabbè, via, via, via. A posto. Ok, non lascia niente, no? È bravissimo, andiamo, andiamo, andiamo. Ok, via, 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 via. Non droppa niente? Perché la signorina, quella, ah no. Perché quella signorina sarei incazzata? Perché sono diventate cattive. Ma, ma tutte? Stronze. Sì. Ah, ma a questa qua era stuta? Battle Royale, ragazzi. Esatto. Io qui ero morto malissimo, tipo un paio di volte, la scorsa. È utile fare dei backstab così non siete targettati. Esatto. Oddio, fa male della madonna al malocchio. Oh, cazzo. Non so dove si va. Allora, fammi un attimo ricordare. Allora, lì c'è il... Forse c'erano dei bauli lassù. Credo di sì. Forse. Può essere. Adesso andiamo su di qua. Allora, di là c'è il... C'è lì. Ehi, guarda cosa c'è qua. Oh, madonna. Ah, ok. È la shorta cattona dove c'era l'occhio, tipo. Forse. Non lo so. Dovrei... Perché... Ah no, sotto. No, niente. Boh, vediamo dove ci porta. Esatto. In questi momenti possiamo... Non c'è... Non c'è l'occhio. Allora, come vuoi. Oh, cazzo. Oh, madonna. Ma sono di tu, ma... Oddio, oddio, oddio. Fa malissimo, fa malissimo sto coso. Esattamente. Ti dipendo io, Ricky. Grazie. Sono una cancro anale di quelli più cattivi proprio. Perché Baga ti fa toglieri in questo posto? Sono dei tupoloni, ma sono carini. Questo ho guardato un conto di equilibrio quando ti colpiscono. Ah, merda, pure. Perché dopo ti attaccano di... Ahia. Sì, di continuo. Ma cacchio, le ho colpiti, ma mi hanno fatto male loro. Sì. Vabbè, potrei anche evitare di... Oh no, Nicolai. Nicolai non muore mai. Nicolai, che sì, però, scritto così, che cazzo. Oh, guardalo. Sì, è lassù. Vai, un duello tra Macchi. Bellissimo. Sì, ma è pieno di gente, più che altro. Aiuto. Dov'è? Vabbè, io aggro un po' di gente a caso. Sì, ho ucciso un prokoscino. Sei molto bianco, Ricci. Sì, ci faccio. Madonna! No! Capita il figlio, si ha graffito troppa gente. Aiuto, cosa succede? Andiamo su, Ricci, andiamo su. Va bene. Scappiamo, scappiamo. E poi posso fare qualcosa anch'io. Oddio. Sei dentro andando nerissimo. Vai. Oh no. Non è vero. Che me la dovrò cavare da solo adesso. Aio. Aio. Aeeeee! Questo è tuo, io vado a fare il signore di là. Bevo. Oddio. No! Ehi, sono morto. Eh sì. Mi hanno sparato tre spelasiere, che cazzo. Eh, anche a me mi hanno un po' gangbangato in quella maniera. No. Vabbè, Froppolo, sono sicuro che te la caverai. Sì, esatto. Vabbè, a me non ho... Non si riesce a peggiarlo della vita. Cosa fa? Ha fatto una magia strana. Oh oh. Vabbè, dai. No, cazzo. Ah. Almeno no, esatto. Adesso posso un attimo rilassarvi. Non c'è la fretta della... Trasciata. È stupido. Intanto provo a venire lì anch'io, da... Tanto io non lo faccio. Ah beh, se volete. Con tutti i nemici da far fuori. Eh, ah, va bene. Ah, sì, far fuori, tra virgolette. Ah, vengo anche in cazzo. No, vengo anch'io. Va bene. Sì. Oddio. Oh cazzo, c'è un sacco... Ci sono un sacco di vie qui. Merda. Pensavo fosse soltanto un rifare il giro, esattamente come la prima volta, ma con due bauli in più. Ah, devo combattere da solo contro uno di quei topini. Ah, ok, va bene. Mi la sto rasciando come un cane. No, adesso mi ha chiudito. Non l'ho mai lasciata fino a lì, è giusto. Infatti non so come fare. Eh, esatto. Non sono mai morto a casa per quei porcini di merda, bastardi, figli di troia. Quindi va. Non mi ricordo la strada. Io santo. Ok. Dobbiamo inventarci qualcosa. A parte che posso tornare indietro io anche, che la strada è vuota ormai, almeno. Eh, io so il giro porcospini. Oddio, c'è un altro porcospino. No, vabbè. Se muoio adesso, tipo, è... Ok. No, merda! Adesso uso un'arma che fa un po' più danno. Torno anche indietro. Non puoi. Noto che ora sul ponte, dall'altra parte, c'è della gente, che mi sa che non c'era prima. O forse non si vedeva perché c'era la bufera. Uh, c'è una signorina incazzata. Eeeh, vabbè, mi ha watchtato. One shot up? No. Con cosa? Mi ha fatto tipo una forza che ha evocato dei globi... Quelli... Mi sono arrivati i globi oscuri, ma mi ha shottato. Ah, sono così forti? Perché prima li ho schivati, ma perché hanno tipo un range bassissimo. Eh, ma io ero addosso. Sì, esatto, infatti, torno indietro. Mi si piglia la gonna, mannaggia, cado, ah, sono inciampato. Esatto. Bravo. Per non perdere tempo, giustamente. Esatto. Cioè, vuoi mettere la soddisfazione di usare la torcia in questo posto che non si potrebbe... Eh, bene, bene. Tu ti ho visto perdere vita. Uh, c'è. Ah. È in politica. Mi ero perso... È in politica già. Sì, la vedo anch'io, non so, vabbè. Che parabolona. Figa! È bellissimo! Aspetta. Cioè... Oh, cazzo. Eh, fa freddo. Non si apre da questo lato, va bene? Non dirlo a me che sono torso nudo. Eh, esatto. Eh, anch'io ho freddo. Ho sentito una magia. Che è stato? Dove ave... Ma non c'era nessuno prima. qui c'è un pontone, ma... Ah, no, no. Ma... 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 Non avete... Ne avete lasciato indietro? Eh, infatti. Eh, Ricci, io... Eh, ma... Si era nascosto. Ah, è qualcuno dall'alto, forse. Ah, guardalo. Ah, bene, bene, bene. Ok. No. Oh, oh. Ci penso io! Eh, ho finito i malocchio, purtroppo. Ci penso io! Guarda, faccio il giocatore esperto, mangio una dei... Un'erba del tramonto. Non l'ho dimenticato prima questo, potrei usarlo anch'io. Cioè, oh, è vero? Tutti con gli art. Perfetto, perfetto. Ottimo. Ma... Che cazzo sta... Ma tu ce l'hai fucati? Eh, ma è esploso... Ma io... Ma io... Ma io prelo incendiamo. Non è infocato, è esclusivo. Che cazzo è? Eh, certo. Boom! Wow. Ah, ok. Oh, madonna. Nulla, proprio. Ciao? Ehi... Mi ha salutato tantissimo. Ma chi? Anche lui mi ha salutato. No, vaga, no, non ho scoperto io. No, 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 no. Dove va? No. Cosa vuol dire che se ne sta andando? Oh, oh. Io non lo ucciderei. Mmm, non lo so. Io, nel dubbio... Ma un brincone? Un brincone? Oh no, non farà mai l'agguato. Eh, ma... Adesso io faccio gli l'agguato. Esatto. Ma... 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 Ma se... Ma io tecnicamente... Io tecnicamente dovrei aver fatto fuori la cosa... Avevo tutto sto stronzo? No, sono caduto. Ma... 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 Ce l'hai mancato? Ok. Eh, ma l'agguato qui il topo l'ho ucciso prima, però. Mi dispiace per lui. A meno che non ci sia un altro agguato... Eeeh... Sì, vabbè. Più o meno, eh. Eeeh... Cazzo, spado in davanti alla faccia e non vedo niente. Basta fare spavere cose. Boh. Oh, li ho mancati. Uh! Oh yeah! Spero che non sia un sigillo che stia bloccando qualcosa di pericolosissimo. Per me è tardi. No! Esatto. Sarebbe fastidiosa come cosa. Ah, ok. Qua c'era il signore. Perfetto. Possiamo tornare giù. E vediamo. In minchia. Allora, però aspetta. Prima volevo stare ancora a esplorare la cittadina. Ci illumina la via, visto. Esatto. Sì, da lontano, meglio, su di voi. Ah, ok. Ok. Questo torna comodo. Che culo che ho detto. Esploriamo il resto della città, almeno. Ok. È un giocatore di Dark Souls. Sperdissimo. Sì, esatto. In realtà lo sapeva già. Sì, mi sono guardato tutti i video. Stato, sono mesi che sono bloccato con l'anima oscura, no, con l'anima della scoperta di Sabaku e anche l'anima oscura, perché non voglio vedere questa parte qua ancora. Quindi sono mesi che è in attesa. Uh, bellissima sta grotta. City senza scagli. Va bene. Sembra tanto un'arena. Esatto. Andiamo a vedere cosa c'è là sotto. Non ho paura di nulla. Uh, uh, un altro di quei cosi. Un jabba de'at. È il demone della cupidija questo, di nuovo, no? Però tipo, è ciccione. Ma quindi i DLC sono, non è, non solo, non sono il demone della forgia blu è riutilizzato, eh? Attenzione. No, no, è carinissimo. Sì, è strabello. Che poi nell'altra boss fight, che non l'abbiamo mai fatto, ma si può, tipo, lo puoi distrarre facendo mangiare i nemici, tipo. Oh, cazzo. Lo scuolo che rompi dal... Esatto, quelli in alto. Siamo nerissimi. Ok. Merda, quanto sono diventato nero. Eh, allora, forse sono le anime, vedi? Può essere, sì. Ma no, io sono nerissimo. Io cazzo, guarda. Sì, sì, spawn. Eh, no, ma nel caso faremmo da qualcun altro che almeno sblocchiamo il falò e riprosseguiamo da lì, tipo. Usiamo il falò come checkpoint della corsa. Ah, è vero che c'è il falò lì? IATA! Mi riprendo anche le magie. Ah, io non l'ho neanche visti. Sì, ma io qua muoio. Porca puttana. Queste cose qua, quando mi colpiscono, mi fanno almeno due danni. Fatto, 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 fatto. Sono ancora vivo io. Sono ancora vivo. Sì, ma scusa, siete nerissimi. Quanto dovete durare ancora? Vi ne andate o no? Ok, dov'è ne punto. Ok. Ti aggro al mondo. Ti aggro al mondo. No. Non c'è nessuno. Ok. No. C'è un video. Arrivederci. Ciao.